Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale MastroTitto, 45esimo episodio per la nostra video guida al 100% di Shadow of the Tomb Raider. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere like al video e cosa ancora più importante, di iscrivervi al canale, così da supportare queste e tante altre serie video guide presenti e future sul nostro canale YouTube MastroTitto. In questo video andremo ad attivare e a completare l'undicesima ed ultima missione secondaria per Paetiti, così da portare anche la percentuale dei collezionabili per la città segreta al 100%. Per cui, prima di iniziare a fare qualsiasi cosa, apro la mappa e vi faccio vedere per bene dove si trova il punto d'attivazione dell'ultima missione secondaria. Ok, di qui iniziamo a parlare con gli NPC. Ok, trova l'assassino di Sue. Sumac indaga sull'omicidio, per cui parliamo anche con la guardia all'entrata della casa. Ok, attualmente il problema è la folla infuriata, quindi passiamo qui dietro e parliamo con quest'altro NPC che impugna un corno. Non ti hanno informato della morte di Sumacca? Certo, Aw, era un grande uomo. Lo era. Ora suono la marcia funebre per accompagnarlo nell'aldilà. Sì, Aw, comincio. Al suono dello strumento la folla si sposta. E chiaramente anche la guardia ci fa passare. Quindi all'interno di questa casetta possiamo iniziare a interagire con tutti gli altri NPC e capire un po' meglio come sono andate le cose. Stava in vendo contro il suo servo Taruka, ricoperto di sangue. Sumac giaceva morto tra loro. Shoko ha visto l'omicidio? No, è tornata dal mercato e ha trovato il servo accanto al corpo del marito. Taruka ha confessato? No, si dichiara innocente. Ma ora ci sei tu, Aw. Pochi riescono a mentire al cospetto degli dei. Quando avrà confessato parla con Pakal, l'investigatore. È accanto al corpo. Iniziamo col parlare al servo che ha accusato dell'omicidio. Aw, abbi pietà almeno tu. Non ho ucciso io il mio padrone. Calmati Taruka. Dimmi cos'è successo. Sono tornato dai campi e ho sentito un forte colpo, come un cancello che sbatte. Sono entrato e ho visto Sumac coperto di sangue. Era stato pugnalato. Io ho provato a tamponare l'emorragia, ma era già morto. Ciò spiega le mani insanguinate. Aw, ti prego, credimi. Tornerò, se avrò altro da chiederti. Saliamo qui sopra e parliamo anche con la moglie dell'uomo assassinato, quindi la vedova. Salve, Shoko? Sì, Aw. Lo so che è difficile, ma devo sapere cosa è successo. Ero al mercato con... Oh, povero Sumac. Prenditi il tuo tempo. Parti dall'inizio. Al mercato, hai detto? Sì, con Akna. Volevo preparare il pokchuk. Era il piatto preferito di mio marito. Akna? Una delle mie serbe. Cosa hai visto tornata a casa? Ho trovato Taruka in cucina, accanto al corpo di Sumac. Le sue mani grondavano sangue. Ho gridato e sono arrivate le guardie. Aveva un'arma con sé? No. Hai sentito un forte colpo al tuo arrivo? Ah, certo che no. E Akna invece? Che c'entra lei? È stata sempre con me, mi ha accompagnata al mercato. Dov'è ora? È nella sua stanza. È rimasta traumatizzata. Ci andrò a parlare. Ma... Sì, certo. Come desideri. Aw. E già questa donna sembra nascondere qualcosa. Ma vabbè, parliamo con l'investigatore. Salve, Aw. Cos'hai scoperto, Pacano? Sumac è stato traffitto più volte al collo, con qualcosa di appuntito e molto affilato. Come una freccia o un coltello? Qualunque cosa sia e non è più qui. Abbiamo esaminato tutta la stanza. Quindi l'assassino ha occultato l'arma. Posso dare un'occhiata al corpo? Fa pure che gli dèi ti portino verso la verità che mi sfugge. Esaminiamo il corpo dell'uomo ucciso. E in più, utilizzando l'istinto di sopravvivenza, possiamo anche notare una scia di sangue. Esaminiamo anche quella. Dopodiché, chiaramente la seguiamo. C'è qualcosa là. Ok. In fondo alla scia, possiamo parlare con la serva. Ciao, Akna. Oh, Au. Perdonami, credevo che fossi la padrona. Avrei bisogno di farti qualche domanda. Non ne so nulla. Non ho visto niente. Questa porta si apre? No. No, non si apre. È rotta. È rotta da... Un sacco di tempo. Akna. Troverò un'altra strada. A quanto pare, la serva non sa raccontare le bugie. Però il problema resta, ragazzi. Infatti, dobbiamo entrare in questa stanza, ma l'accesso è bloccato. Per arrivare dall'altra parte, dove vediamo che c'è un ingresso, sarà sufficiente ripercorrere una strada che già ben conosciamo e che, al tempo, ci è servita per raggiungere una tomba della sfida. Per cui, usciamo dall'edificio. Passiamo sulla destra. Scendiamo qui sotto. E poi, ancora sulla destra. In fondo, davanti a noi, troviamo una parete butterata. La scaliamo. Quindi, doppio salto e rampino. Arriviamo su in cima. E stavolta, anziché andare a sinistra verso la tomba della sfida, andiamo a destra. Ok. Entriamo nella stanza e sulla sinistra è palese un'enorme macchia di sangue che possiamo evidenziare anche utilizzando l'istinto della sopravvivenza. Altro sangue. Qualcuno ha cercato di pulirlo. Sumac deve essere stato ucciso qui. Al che, avvicinandoci all'uscita di questa stanza, iniziamo a sentir vibrare il pad. Raggiungiamo questo piccolo giardino e subito sulla nostra sinistra possiamo notare un oggetto con il quale interagire che però, ragazzi, non è un kit di sopravvivenza. Infatti, questi ultimi li abbiamo raccolti tutti quanti all'interno del gioco, ma bensì è l'oggetto per la missione secondaria. Qualcuno ci grida no, fermati, probabilmente la schiava ed abbiamo trovato l'arma dell'omicidio. La padrona ha detto che se qualcuno lo vede finirà nei guai. Perché mai l'avrebbe detto? Ti prego, Ao, non farmelo dire. Non voglio che accada nulla alla padrona. Devi raccontarmi tutto. La padrona non è venuta con me al mercato. Quando sono tornata in camera mia, la porta era rotta e c'era sangue dappertutto. Avvertite le guardie. La padrona mi ha dato il coltello da nascondere. Mi dispiace tanto. Grazie per l'onestà, Akna. Ti prego. Perdonami, Ao. Ti prego. Shoko sarà consegnata alla giustizia. Per cui, la padrona, ovvero la vedova, la moglie, è l'assassina e la schiava è una complice. Tutto qui. Mistero risolto. Parliamo direttamente alla guardia e andiamo anche quindi pian piano a completare quest'ultima missione secondaria. Ragazzi, siamo stati bravissimi. Sumac è stato ucciso da sua moglie. Ho trovato l'arma del delitto. Arrestala! No! Shoko non era al mercato. Ha aspettato che Taruka e Akna uscissero. Dopodiché ha pugnalato ripetutamente Sumac al collo. Non è vero! Sumac è morto nel corridoio. Shoko ha spostato il cadavere dove Taruka potesse trovare. Stai mentendo! Ha sbattuto la porta interna per attirare l'attenzione di Taruka. Poi ha dato il coltello ad Akna, ordinandole di nasconderlo. E' andata dal servo e l'accusato dell'omicidio. Silenzio! Ora ci occuperemo di a Drambo. Accetta questo in segno di gratitudine. Vestigia. Tunica da battelle di Yahwai. Aumenta la durata degli effetti delle erbe e stoicismo. Indaga sull'omicidio. Libera Taruka, ovvero il servo innocente. Taruka, sei libero di andare. Grazie, a volte la giustizia funziona. A volte. Missione completata. Indaga sull'omicidio. E in questo modo abbiamo anche completato tutti i collezionabili per la città segreta di Paetiti al 100%. Ragazzi, siamo stati fenomenali. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 45esimo episodio della nostra video guida al 100% di Shadow of the Tomb Raider è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete concesso e spero davvero in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video. Ciao.